Ciao a tutti ragazzi! Oggi vi farò vedere una cosa molto divertente e molto molto semplice uno spaghetto aglio e olio peperoncino colorato. Andiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti per aver visto fino a qui e adesso vi chiedo semplicemente di far girare questi video, condividete più che potete, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e obbligate i vostri amici a mettere mi piace, se no non si può andare avanti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!